Incredibile tris di Arnaud Demar, il campione francese è il velocista più forte di questo Giro d'Italia, tre vittorie nelle prime sette tappe, tutte le tappe di volata, tutti gli sprint sono stati vinti, anzi dominati dal campione francese che è anche il plurivincitore dell'anno, quindi probabilmente si potrebbe definire quasi il velocista più forte di quest'anno, veramente Arnaud Demar, incredibile quello che sta facendo in questo 2020. Vittoria che arriva a Brindisi con uno sprint praticamente a due con Peter Sagan. Buon pomeriggio a tutti in viceversa di sport, ben ritrovati su Magliarino Sporciani e Sanessandro, sono qui per parlarvi appunto della settima tappa del Giro d'Italia 2020 con partenza da Matera e arrivo a Brindisi, 143 km in terra appunto Lucana e poi in Puglia. Tappa che inizia subito con un ritmo altissimo, 56 km all'ora nella prima ora, veramente velocissima questa tappa perché in generale è andata penso a una media intorno ai 52 all'ora, quindi veramente velocissima, una delle tappe più veloci probabilmente nella storia dei grandi giri, dato la presenza di un forte vento che ha favorito l'azione della Jumbo Visma e della Dessine Quickstep che hanno aperto dei ventagli sin dalle prime fasi. Restano staccati in circa 3-4 tronconi, nel primo troncone di staccati restano Fulsang, Maika e anche Peio Bilbao, mentre nel secondo restano Simon Yates, Domenico Pozzivivo e Arm Vanuc con in Lurzacanen ancora più staccato. Dopo circa 30 km riescono, dopo un lungo inseguimento appunto, a rientrare il gruppo di Fulsang e dopo circa 15 km rientra anche il gruppo di Yates, con il raggiungimento della città di Taranto dove c'è una caduta coinvolta ancora una volta Vanuc e anche rallentato Jakob Fulsang, ma nessun problema per entrambi. Allo sprint, vittoria per quanto riguarda il gruppo, per Arnaudemar, perché davanti avevano attaccato qualche chilometro prima Peio e Marco Frapporti, i soliti fuggitivi, insomma, classici. E poco dopo Taranto rientra anche il gruppo di Zakarin. Parecchio nervosismo, con una brutta caduta a 45 km dalla conclusione che spezza ancora una volta il gruppo in tre tronconi. Fortunatamente nessuno sembra essersi infortunato gravemente, sembrano essere ripartiti tutti, però il gruppo si spezza in tre tronconi con ancora una volta staccato Arnaudemar, comunque dopo una circa ventina di chilometri di inseguimento sia Zakarin che Vanuc riescono a rientrare in gruppo. Molto nervosismo, velocità altissime nella fase finale, con il gruppo che si allunga un paio di volte, ma nessun ventaglio, e alla fine si arriva in volata. Come al solito, grandissima preparazione, ottima preparazione per la squadra di Arnaudemar, appunto la gruppo MAFDG, e praticamente è uno sprint a due perché restano anche un po' bloccati da un corridore, se non sbaglio, della Desenic che appunto fa un po' il buco, e praticamente è uno sprint a due tra Demar e Sagan, con Sagan che non riesce nemmeno ad affiancare Demar, gli resta praticamente a ruota e Pierinerzia conclude in seconda posizione. Terza posizione per Michael Matthews, seguono in top 10 Zwift, Hoge, Varvie, Ballerini, che è colui che ha lanciato un po' la volata, Battaglini, Fiorelli e Elia Viviani. Ancora una volta male, male, molto male Elia Viviani, non ben piazzato, non in grado di fare un ottimo sprint, insomma. E ancora peggio Gaviria che ha chiuso un dicesimo, praticamente non ha nemmeno disputato la volata. Dunque, vittoria ancora una volta per Arno Demar, che consolida ovviamente la sua leadership nella maglia ciclamino, sta vincendo veramente tutto e veramente ha un vantaggio incredibile nella ciclamino su Peter Sagan. Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto, mi lascia un commento, un piacere, iscrivetevi, iscrivetevi e iscrivetevi anche sulla nostra pagina Instagram, noi ci vediamo al prossimo video.